Chi parla? Ho tua figlia. Voglio una cosa dalla tua paziente. Lei ha un numero di sei cifre chiuso e inquilamente distorta. Io voglio quel numero e tu vuoi riavere tua figlia. Regola numero uno. Non una parola. Le parò avere quel numero? È un numero di telefono? No. È un codice? È quello che voglio. È un posto? No. Devi assolutamente aiutare. No. Che cosa è? No! Don't say a word. Questa sera alle 21.10. Rai Movie.